Niente weekend della ripartenza, ormai è deciso sabato 9, domenica 10 gennaio. I ristoranti, i bar e le pasticcerie dovranno restare chiusi anche a pranzo. Il provvedimento adottato durante la notte dal governo, commenta Lucio Gori per Fipet Confesercenti, indica l'Italia in zona gialla solo durante i giorni di 7 e 8 gennaio, mentre il 9 e il 10 tornerà arancione. Da lunedì 11 fino al 15 la fascia si tinteggerà ancora di giallo, consentendo l'apertura dei ristoranti e dei bar fino alle 18 per poi capire cosa accadrà dal 16 gennaio. Insomma, un apri e chiudi che ci trova fermamente contrari. A rimetterci più di tutti, sottolinea Fabrizio Tavanti, presidente di Fipe Tarezzo, saremo ancora una volta noi. Siamo stati illusi di poter ripartire almeno a pranzo dopo l'epifania, nella speranza di non dover chiudere ancora una volta, invece siamo costretti a farlo, un apri e chiudi, ad intermittenza, siamo esasperati. I ristori, inoltre annunciati per la chiusura di dicembre e in molti casi insufficienti, a numerosi operatori non sono ancora arrivati.